Bentornati! Oggi è un appuntamento fuori da calendario. Noi solitamente ci vediamo il lunedì e il giovedì. Gli appuntamenti del sabato sono sempre stati appuntamenti volti a capire e a cercare di superare il momento di incertezza che la pandemia sta causando. È proprio questo lo scopo del video di oggi. Oggi vi voglio parlare di quattro motivi per cui essere grati quotidianamente. Ciao, se non mi conoscete io sono Angelo. In questo canale YouTube vi parlo di psicologia, autostima, crescita personale e tanto altro. Iscrivetevi subito al canale e mi raccomando non dimenticatevi di cliccare sulla campanellina delle notifiche così sarete avvisati ad ogni mio nuovo video. Oggi torniamo a parlare della pandemia. Il lockdown ormai è passato da qualche mese. Ma l'incertezza della pandemia, le ansie che questa sta causando permangono nella nostra quotidianità. Ogni giorno sentiamo dai telegiornali notizie purtroppo negative di famiglie che vivono in uno stato di difficoltà, persone che vengono licenziate, aziende che chiudono. A queste notizie negative si aggiungono notizie di incertezza. Che cosa succederà domani? Che cosa accadrà con la riapertura della scuola? Ci sarà un nuovo lockdown? Come possiamo immaginare, questo mix di informazioni crea incertezza e porta la nostra attenzione a direzionarsi verso gli aspetti negativi. Il mio lavoro oggi con voi è quello di allenare la nostra mente a cogliere il positivo che quotidianamente è intorno a noi. E questo è lo scopo del video. Vi voglio presentare quattro motivi per cui essere grati ogni giorno. Il primo motivo è che vi siete svegliati. Questa cosa quasi normale scontata in verità nasconde delle grandi potenzialità. Il fatto che oggi siate vivi vi dice che potete attuare un cambiamento nella vostra vita. Cercate di prendere consapevolezza che ogni nuovo giorno rappresenta una miriade di nuove possibilità di cambiamento. Sta a voi decidere oggi, in questo momento, dove direzionare il cambiamento. Se noi non prendiamo consapevolezza dell'unicità di ogni singolo giorno e delle possibilità che questo ci offre, rischiamo di vivere la nostra vita in una routine meccanica che però non ha un senso, non ha uno scopo profondo. Quindi prendete consapevolezza che siete vivi, che vi siete svegliati e pensate a quali cambiamenti potete attuare nella vostra vita ora, adesso. I cambiamenti possono essere di tipo pratico, per esempio cominciare un hobby, dedicarvi a qualche attività speciale, chiedere un trasferimento lavorativo, chiedere alla persona che vi interessa uscire. Oppure potrebbe essere un cambiamento psicologico. Scegliere di cambiare i vostri atteggiamenti mentali, educare la vostra mente a vedere le cose positive che vi circondano. La cosa fondamentale è prendere consapevolezza che avete il cambiamento nelle vostre mani. Il secondo motivo per cui essere grati è che avete il cibo in tavola. Questa è una cosa scontata di cui non tutti riconoscono la grandiosità. Purtroppo ancora oggi esistono tantissime famiglie, tantissime persone che non possono godere del profumo di una colazione o del calore di una zuppa. Se voi invece avete la possibilità e la benedizione di avere il cibo in tavola, siate negrati. Quando vi trovate a tavola assaporate i profumi, i sapori, godete dell'esperienza e siate negrati. Ancora di più se condividete un pasto con i vostri cari, cercate di prendere consapevolezza piena dell'esperienza che state vivendo, lasciate da parte il telefonino, la televisione e godete l'esperienza. Il terzo motivo per cui essere grati è che avete tempo. Questo un po' si ricollega al punto 1. Voglio dirvi in questo momento però di prendere consapevolezza e di essere grati del fatto che avete tempo. Se attuate dei cambiamenti nella vostra vita, scegliete nell'arco della giornata di dedicare del tempo a ciò che veramente vi interessa e vi appassiona, che sia un hobby, che sia condividere del tempo con i vostri cari, che sia fare della beneficenza, fare del volontariato. Purtroppo molto spesso, il tram tram quotidiano ci porta a vivere le attività in maniera meccanica e come ben sappiamo non tutte le attività ci piacciono. In un precedente video vi ho spiegato come gestire lo stress grazie all'arte dell'Ikebana. In questo video che vi consiglio di vedere, vi lascio il link giù in descrizione, vi spiego che è importantissimo nell'arco della giornata ritagliare dei momenti per se stessi, per quelle attività che riempiono la nostra vita e danno valore alla nostra quotidianità. Quindi mi raccomando organizzate la vostra giornata in maniera tale da avere dei momenti che riempiano emotivamente la vostra quotidianità. Il quarto motivo per cui essere grati è l'amore. Anche se non ne siete pienamente consapevoli, intorno a voi ci sono tante persone che vi vogliono bene e vi supportano. Spesso questi affetti, queste relazioni sono date per scontato, non ne godiamo pienamente, non ne siamo grati. È invece importante guardarsi intorno e riconoscere quelle relazioni che veramente riempiono la nostra vita. Può accadere però che siate persone che tendono all'isolamento e quindi non avete relazioni significative. Questo non significa che non potete costruirne. In un video passato vi ho spiegato come conoscere gente nuova, vi ho spiegato alcune strategie utili per creare una rete di amicizie. Vi lascio il link giù in descrizione. Ma la cosa fondamentale che dobbiamo comprendere è che siamo circondati dall'amore, dal sostegno e dall'affetto di tantissime persone e spesso non siamo consapevoli di ciò. Quindi di nuovo guardatevi intorno e siate grati per l'amore che vi circonda. Spero che queste indicazioni vi abbiano aiutato a comprendere quanta ricchezza e quanta bellezza c'è nella nostra quotidianità nonostante l'incertezza della pandemia. Spostando la nostra attenzione verso la positività, verso la gratitudine, riusciremo anche ad affrontare meglio questo periodo di incertezza. Spero che il video vi sia stato d'aiuto e mi potete lasciare un commento o delle domande giù nella sezione dedicate commenti e noi ci vediamo nel prossimo video.